non toccare i fiori fanno parte del decoro del reso no non li puoi toccare avanti ma guarda un po ma un vizio quello di toccare certo no non lo puoi toccare no perché la puoi rompere il vaso chiaro non si tocca niente qui sei non reso la si tocca l'acqua del mare con le scarpe chiaro no perché sporchi tutto inquireresti l'acqua e andare con i piedi nudi chiaro al mare oi Allora ragazzi c'è bello? Ho comprato la mia madre, ho appena comprato la mia madre, si è appena comprato il cipiere, ma no. Ma cosa sta facendo? Lei tocca le macchine degli altri senza il permesso, le regole del calateo vengono anche per lei, non solo per Serefino, se ne vada, non ha chiesto il permesso di toccare la macchina. Grazie a tutti.